Si conclude oggi la colonia del 2014, la colonia marina, con una gita. I ragazzi oggi andranno a Macchia da Sole di Valle Castellana insieme ai ragazzi della GESCI e colgo l'occasione per ringraziare la GESCI che si è messa a disposizione e quindi insieme ai nostri ragazzi oggi passeranno i loro ragazzi questa bellissima giornata. Ringrazio il Masci per la disponibilità di un accompagnatore e anche tutti coloro che hanno accolto con grande sensibilità le richieste che sono arrivati da noi come i fratelli Lauri che da sempre sono i partner dell'assessorato al sociale e con grande sensibilità corrono sempre alle nostre richieste. I fratelli Lauri titolari di un notissimo supermercato di Teramo che oggi mettono a disposizione dei ragazzi le merendine, i succhi di frutta e la frutta per la merenda. Ovviamente i ragazzi mangeranno a Macchia da Sole insieme ai ragazzi della GESCI. Tra l'altro oggi è il compleanno di una bimba, Amalia, che compie dieci anni. Ha portato anche la torta, quindi vi divertirete ancora di più perché ci sarà anche un compleanno e potranno festeggiare. Io sono contentissima e soddisfatta che quest'anno siamo riusciti anche a fare la gita. La giornata conclusiva è una giornata importante per i ragazzi e devo dire questo grazie anche sempre alla sensibilità del presidente dell'ANFE che ovviamente non si limita ogni anno soltanto alla colonia ma insieme a noi, insieme alle operatrici, si mette sempre a disposizione per regalare anche la giornata conclusiva ai bambini perché di solito andiamo sempre in un posto diverso rispetto a quello dove abbiamo fatto la colonia. Quindi bambini divertitevi, mi raccomando, non perdete neanche un attimo per divertirvi. Godetevi questa giornata e veramente buone vacanze a tutti.